Trovate le armi utilizzate dai killer della strage di Palagiano, una pistola ed un fucile. E' trovata anche un'altra automobile, oltre all'opelastra completamente bruciata, a bordo della quale hanno agito i sicari la notte del 17 marzo scorso. La notizia non è ufficiale, vige ancora il silenzio imposto dal procuratore antimafia, ma la fonte è attendibile. Alla notizia probabilmente non ci sarà né conferma né smentita. In particolare le armi sarebbero state ritrovate contemporaneamente e non lontano dalla Opel. Successivamente invece sarebbe stata ritrovata l'altra auto. Il commando di killer dunque era ben nutrito e organizzato per ogni evenienza. Cosimo Orlando, il pregiudicato e detenuto in semilibertà, quella sera doveva morire, a costo, come è accaduto, di fare una strage. Intanto Palagiano è ancora assediata dalla task force di inquirenti. I cittadini sentono e apprezzano la loro presenza, ma hanno dubbi sull'esito delle indagini. Siamo blindati, come si può vedere, la sera, la mattina, ad ogni ora. Speriamo. Non lo so se riusciranno a prendere qualcuno alla fine. È passato troppo tempo. Secondo me sì. Mi sa che la cosa morirà così. Saranno presi i responsabili secondo lei? Io penso che sarà difficile. Stando alla dinamica, come è successo il fatto, penso che sarà difficile.